Come ogni estate, facciamo il nostro focus on di luglio. Iniziamo! Amici, bentornati su Recenso, la videorubrica di libri, fumetti, manga, film e telefilm. Nella puntata di oggi, che oltre a quella della setta è l'unica che vedrete a luglio, tolte le puntate che faccio sul Topolino ogni settimana, è una puntata che, come è successo anche per l'estate scorsa, ho lasciato decidere a voi il tema. L'abbiamo fatto questa volta solo nei sondaggi su Instagram, per cui se non mi seguite fatelo, qui sotto nell'info box ci sono tutti i collegamenti ai vari social dove mi trovo. Questa volta, quindi, il nostro focus on di luglio si concentra su quelli che sono gli scrittori, quindi gli sceneggiatori, di una storia a fumetti. Quello che avevo un po' paura io a fare era prendere un solo scrittore, un solo sceneggiatore per fumetti e iniziare a spostarmi su tutta quella che era la sua produzione e quindi mettere a confronto il suo modo di scrivere in ogni prodotto che ha sviluppato e pubblicato. Siccome non ho la pretesa di avere tutto di ogni autore o comunque che mi piaccia tutto di ogni autore, di un solo singolo autore, quello che voglio fare qui è prendere alcuni autori tra l'Oriente e l'Occidente, del mondo dei fumetti e quindi anche dei comics e dei manga, e presentarlo sotto alcuni punti di vista attraverso quindi le loro opere, in modo da non fossilizzarmi su un solo nome ma spaziare e magari incontrare anche i vostri gusti. Quello che quindi qui voglio fare è parlare di un autore o meglio due autori giapponesi e qualcuno di italiano. Non mi soffermerò su quelli americani perché come ben sapete leggo molto poco di americano per cui non potrei neanche fare un vero e proprio raffronto proprio perché mi manca la documentazione, ma se voi avete un autore, sceneggiatore, fumettista americano che vi piace magari ne discutiamo qui sotto nei commenti, lo sapete mi fa sempre piacere. Prima di iniziare, quello di cui vi parlo come autore italiano è più una parentesi perché in realtà ne abbiamo già parlato in numerose puntate del passato perché è un autore italiano che mi piace veramente tantissimo. Sto parlando ovviamente di Leo Ortolani che non è solo sceneggiatore ma è anche disegnatore. Se a molti imputano a Leo Ortolani un disegno molto infantile, semplice, quasi più un disegno caricaturale e da bambini, quello che invece io penso al riguardo è chiarissimo perché ce lo siamo già detti molte volte, è che è un disegno che mi piace veramente tanto. È sì semplice ma riesce attraverso poche linee a creare dei volumi interessanti, a personalizzare i personaggi e a creare attorno a loro tutto un ambiente che lo aiuta a dargli vita. Ma siccome stiamo parlando di sceneggiatura, quello che mi piace della sceneggiatura di Leo Ortolani è il fatto che si rifà a un bagaglio culturale che è tutta quella che sono le varie serializzazioni di film e telefilm che quindi fanno parte un po' del mainstream culturale che tutti conosciamo attraverso quindi quelli che sono i suoi film e telefilm preferiti o comunque semplicemente quelli che va a vedere che prende ispirazione per creare il suo mondo, la sua storia. Non è quindi un semplice scopiazzamento coronato da un disegno semplice e idiota perché non lo è assolutamente e anzi il fatto che noi lo possiamo vedere in tante storie diverse non solo attraverso Ratman che è finito ma anche attraverso storie come può essere Il Signore dei Ratti, 299 più 1, Avarat o quello più prolifico Star Rats Vediamo come questo autore attraverso l'ironia e una chiave di lettura tutta sua riesce a prendere quindi spunto da più fonti per creare quelle che sono le storie che vuole raccontare, ciò che quindi ha dentro di sé e vuole mostrare agli altri che poi il disegno sia più o meno apprezzato, questo non è importante perché penso sia un gusto personale come ho detto a me piace tantissimo. Quello che quindi conta in questa puntata è il modo con il quale riesce a rielaborare a decontestualizzare tutto quello che già è uscito e già è stato pubblicato e trasformarlo con una chiave di lettura tutta sua in qualcosa di nuovo magari sfruttare una situazione, un elemento, un oggetto particolare, una porzione di trama di qualcosa già visto e farlo rientrare in una visione globale d'insieme che magari funziona nella trama che ha creato e questo non è da tutti perché appunto ci vuole molta fantasia e soprattutto il modo con il quale Le Ortolani racconta ci vuole anche molta molta creatività e ironia, cosa che appunto questo autore è veramente pieno e possiamo dire molto dotato ma vi ho detto che avrei parlato anche di autori giapponesi per farla più semplice e farmi anche capire su quello che è il mio gusto e le storie di cui vi parlo parlo di un grande classico per così dire moderno che è Death Note e Full Metal Alchemist due dei miei tre primi manga che abbia mai letto, se non sbaglio di Death Note ne ho parlato proprio nella prima puntata del canale il vecchio canale, ma ne parliamo in modi diversi perché in Death Note abbiamo due autrici che sono Oba e Obata una si occupa del disegno, l'altra della storia, mentre in Full Metal Alchemist c'è una sola autrice che fa quello e quell'altro in entrambi questi manga si legge e si respira più che altro innovazione non solo per il tipo di storia e le ambientazioni ma anche e soprattutto per la grande presa che hanno avuto in così poco tempo sui lettori una presa che è sicuramente stata agevolata dalla serializzazione formato anime di queste due storie ma è anche un tipo di storia, anzi o meglio due tipi di storia che parlano ai lettori di sentimenti che umanizzano tantissimo i personaggi e quindi ci danno la possibilità di avvicinarci loro nonostante appartengano a mondi e condizioni diverse dalle nostre Oba quindi ci presenta un solo protagonista in questa storia che è Light Yagami un ragazzino secchione, spocchioso, estremamente annoiato che si pensa di poter fare Dio giudicando il mondo sotto la propria lente che è ovviamente una lente molto corrotta, molto deformante se prendiamo invece pubblicazioni successive di questa sceneggiatrice parliamo, l'ho messo al contrario, parliamo di Bakuman questa volta il protagonista non è uno solo ma ce ne sono due Mashiro e Takagi e in questa storia di ben 20 numeri troviamo il modo con il quale si conoscono e cercano di combinare la loro creatività nel disegno e nella sceneggiatura per arrivare alla pubblicazione di una loro storia, di una loro idea ovviamente il modo con il quale queste due storie sono gestite è completamente diverso perché mentre qui abbiamo una storia lineare che poi inizia a intrecciarsi con alcuni flashback e flashforward veramente minimal perché devono prendere quelle che sono le note della poliziesco e del noir molto più maturo in questo lato invece troviamo una storia che si approfondisce di tante piccole medie e lunghe sottotrame che servono a approfondire la caratterizzazione dei personaggi perché altrimenti in alcuni momenti la sceneggiatura ne verrebbe ovviamente a mancare perché parliamo pur sempre di una corsa alla pubblicazione gli ostacoli sono ovvi qui invece c'è molto più di fantasy nonostante ovviamente la storia sia più matura quello che quindi qui troviamo alle volte è un arrancare cosa che qui non c'è e si arranca tantissimo perché in alcuni numeri la storia sembra molto più appesantita non solo perché si vuole sottolineare la fatica dei ragazzi per raggiungere il loro obiettivo ma soprattutto perché alla fin fine non c'è tanto da raccontare su una pubblicazione arrivando alla carriera di mangaka in Death Note invece quello che c'è da raccontare è piuttosto lineare le regole che vengono decise a tavolino e che ci vengono presentate sono quelle, i binari sono quelli e ovviamente siccome parliamo comunque di una storia più matura non c'è tutto quell'entusiasmo e quel brivido forse quasi entusiastico della vita giovanile che troviamo invece in Bakuman quello che invece troviamo in Fullmetal Alchemist come ho detto è un solo autore, Arakawa che si occupa del disegno e della sceneggiatura nel suo ultimo, anzi successivo, lavoro che è Hero Tales la troviamo invece solamente nel disegno la sceneggiatura è lasciata a Wang Jinzou però in entrambe le storie possiamo trovare dei nessi in comune perché entrambe sono appartenenti a una mitologia che può essere quella alchemica come quella della Cina antica nella quale ci sono sette guerrieri che rappresentano il potere delle sette stelle dell'orsa maggiore si devono affrontare tra loro e devono arrivare quindi al governo e al dominio del mondo in Fullmetal Alchemist troviamo invece due ragazzini Edward e Elric che attraverso l'alchimia vorrebbero far tornare in vita la madre e ne devono quindi pagare il conto per fare questo quindi vanno in giro per il mondo esercitando l'alchimia per rimettere a posto quello che hanno combinato come ho detto siccome gli sceneggiatori sono diversi e qui noi dobbiamo vedere il lato della sceneggiatura non posso fare un vero e proprio raffronto se non che il registro del disegno resta lo stesso e cosa non scontata anche il modo con il quale i personaggi sono gestiti rimane uguale nonostante il cambio di penna possiamo dire quindi che Arakawa ha sicuramente influenzato il collega in Hero Tales portando molto del suo in questa storia di autori giapponesi potrei fare tantissimi nomi ad esempio Hiromashima conosciutissimo per Fairy Tail o anche per Monster Hunter o Monster Hunter Orange il problema è che io non ho mai letto Fairy Tail per cui non posso parlare a fondo di quest'autore e ora ovviamente veniamo a qualcosa di più italiano come lo facciamo? ovviamente attraverso la Disney non perché io non voglia parlare del mondo bonelliano o altro italiano ma perché è quello che ormai da più di due anni ci accompagna ogni lunedì prima la domenica ora il lunedì e lo facciamo quindi attraverso il disegno della Disney o meglio la sceneggiatura della Disney perché come già vi ho detto e ridetto in ogni puntata come esiste una rosa negli stili di disegno degli autori Disney così esiste una rosa di stili differenti di narrazione all'interno del mondo della Disney ovviamente come succede anche in altre realtà esistono anche autori che si occupano solo del disegno e solo della sceneggiatura e altri invece che fanno tutte e due le cose di sicuro apprezzo tantissimo Roberto Gnagor se si dice così il nome di cui mi piacciono tantissimo le sue interpretazioni della storia dell'arte del topolino ma anche Marco Bosco e sicuramente Enrico Faccini che io adoro veramente immensamente soprattutto per le sue storie mute che ovviamente accompagnano un disegno molto personalizzato di quella che è lo stile Disney molto più semplice, molto più morbido molto più fanciullesco sicuramente non può mancare Corrado Mastantuono con le sue più moderne rivisitazioni del personaggio di P.K. e ovviamente per la buonarietà di Boom Boom personaggi e storie completamente diversi ma che ovviamente risaltano tantissimo all'interno del contesto nel quale vengono inseriti e se trovo Marco Rota semplicemente sublime con il suo sguardo al vintage non solo nel disegno ma anche nella sceneggiatura ovviamente devo citare anche Silvia Ziche una preziosissima perla che brilla all'interno della rosa degli sceneggiatori Disney non solo perché la troviamo nella vignetta d'apertura di ogni numero del Topolino ma anche perché attraverso le sue storie troviamo un mondo molto più romantico e disincantato e una visuale della vita di coppia soprattutto vista tra Paperino e Paperina stupendo, meraviglioso è Marco Gervasio una penna molto matura soprattutto espressa attraverso le storie di Fantomius e di Paperinic ultimamente un autore che a me piace tantissimo che ci ha dato delle storie molto più mature molto articolate che rispetto ad altre non saltano di palo in frasca per raggiungere la conclusione quindi vedono tagliuzzare la storia con escamotage che la accorcino e la facciano rientrare in quel numero prestabilito di pagine ma anzi lui ci riesce in maniera molto organica a raccontare le sue vicende e troviamo poi anche Casti, Andrea Castellan che ultimamente abbiamo visto proprio nelle Onde Scherz storie molto ben pianificate che corrono rapidamente consce di quello che vogliono raccontare all'interno della loro stessa storia per arrivare accompagnando il lettore sul loro finale uno che sembra essere fuori contesto perché in realtà è nato online fa disegni che veramente le ortolani chi non lo apprezza dovrebbe considerarlo un maestro rispetto ai disegni che fa Sio senza offendere ovviamente è appunto Sio perché nato per il disegno online in questo ambiente Disney fa per fortuna lo sceneggiatore e per fortuna non è per denigrare il disegno ma perché ha un'inventiva e una capacità molto fresche e dinamiche che all'interno del mondo Disney probabilmente mancavano è una ventata freschissima in quest'eraosa di stili che apprezzo veramente tanto in questi due annetti che sono abbonato al topolino probabilmente l'ho incrociato due o tre volte all'interno delle storie e l'ho riconosciuto subito perché io evito di leggere i nomi se non quando scrivo le puntate l'ho riconosciuto subito e quando ho riscontrato che era effettivamente lui ho sorriso tanto e la cosa mi fa estremamente piacere perché veramente è una ventata briosa e fresca all'interno del topolino ma come per il mondo nipponico anche per il mondo della Disney e quindi italiano occidentale ci sarebbero tantissimi altri autori di cui potrei parlare ma siccome non voglio che questo rimanga o diventa un monologo io mi fermo ho lanciato come sempre la mia pietrina vorrei che poi mi lanciaste voi la vostra senza lapidarci a vicenda nei commenti qui sotto ditemi quali sono i vostri autori sceneggiatori preferiti io ad esempio vorrei finalmente riuscire a leggere Black Seed il problema è che ancora non ci sono riuscito perché mi sono portato dietro troppa roba dall'ultimo Comic Con per cui ancora non l'ho letto ma ho incontrato il disegnatore che non spiccicava neanche una parola in inglese per cui ho avuto un po' di difficoltà a parlare quel po' che ci siamo detti però era comunque tanto vorrei parlarvi di quello perché sicuramente è una storia bellissima per come mi è stata passata da altre persone ma appunto non si può parlare di tutto in un unico video quindi aspetto che mi diciate anche voi la vostra a riguardo magari mi farete conoscere autori che non conosco magari anche io ho parlato a voi di autori che voi non conoscevate se quindi questa puntata vi è piaciuta fatemelo sapere con un vostro commento un vostro mi piace condividendola con i vostri amici e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto cliccando anche la campanella al lato per ricevere le notifiche di pubblicazione io vi ringrazio tantissimo per l'accompagnamento che mi date ogni volta che pubblico una puntata vi lascio qui sotto nel micro box tutti i riferimenti e i social dove mi potete trovare ma fate visita soprattutto a www.retrattinocenso.it e iscrivetevi nei gruppi facebook e telegram e il salotto dei recenziani io sono Dario questa è Recenso e noi ci vediamo ad agosto sempre qui sempre su Recenso pronti a sfogliare nuove storie e volare insieme nel mondo della fantasia